Giuseppe Modica è uno straordinario pittore italiano, nato a Mazzara del Vallo nel 1953, ma da molti anni ormai residente a Roma, dove ha il suo studio e dove è docente all'Accademia delle Belle Arti. Il mare, la luce della Sicilia, vecchie dimore consumate dal tempo, penetrate dall'azzurro di un Mediterraneo carico della storia degli uomini, ma anche visioni di architetture arabe, di saline. Questo è il mondo che Giuseppe Modica porta dentro di sé e che ci restituisce, integralmente riscritto, pittoricamente riscritto, sul filo della memoria e dell'immaginazione. Dal vassoio di Cedri, plastici e solari posti in primo piano, lo sguardo corre verso l'esterno, quasi seguendo il rettifilo delle mattonelle maiolicate del pavimento. Sul fondo una porta, elemento spesso presente nelle sue pitture, insieme a quello dei vecchi specchi ossidati e a quello delle finestre i cui vetri riflettono il mondo circostante. Sono tutte metafore del rapporto che corre tra la realtà e la sua percezione, tra ciò che è reale e ciò che è apparente. La porta, di fatti, simboleggia la relazione tra un dentro e un fuori, permette alla luce di entrare e di modificare la percezione di tutte le cose presenti nella stanza e, al tempo stesso, permette allo sguardo di uscire e di spaziare, di andare oltre, quasi di perdersi dentro quei toni azzurri che dalla stanza conducono al mare, nella trasposizione visionaria e sospesa della realtà che il pittore ci regala.